Il GF VIP ha portato fortuna a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. L'attrice siciliana e il figlio dell'ex portiere Walter, infatti, da quando si sono spenti i riflettori su questo lunghissimo GF VIP, non si sono lasciati neppure un solo secondo e hanno condiviso molti momenti del loro quotidiano sui rispettivi canali social. Insomma, sono diventati inseparabili. Nel dettaglio, in questo periodo Rosalinda si è trasferita a casa sua a Milano, comunque Rosalinda tende a precisare che non si separerà da Andrea Zenga e si alterneranno tra le due case. Rosalinda è sempre molto attiva sui social e proprio pochi minuti fa si è mostrato nel divano di casa sua in attesa di Andrea Zenga. Sto aspettando Andrea Zenga che venga a casa per fare la ricetta fit. Come spiegato da Andrea nelle sue Instagram Stories, oggi farà una diretta con il suo personal trainer in cui proveranno a fare un tiramisù dietetico. Sto aspettando Andrea, tra un po' arriverà qui perché farà la sua diretta a casa mia, ovviamente perché serve la mia supervisione, soprattutto quando è ai fornelli. Se attacchatchva. A l'idea che si sta ottekli facolti anche la nostra scatta, non sono scatto che la nostra scatta,